tutto io ho perso tutto lo investi di male la finanza da a finanza toglie mercato è crudele ragazzi invece c'è qualcun altro che tutti quanti c'è un problema finalmente abbiamo iniziato a condividere con lui è vero oggi ha ascoltato e compreso i miei bisogni è ingarbata veramente garbato io pure mi sento ascoltato sinceramente tra di noi comunichiamo bene tu bruno che dici si no devo dire guarda comincia veramente a circola una certa empatia proprio anche per me l'empatia come no no ma vuoi intervenire è quello che mi sento di dire è che a poco a poco con queste persone che ha ragione ormai possono chiamare fratelli ho capito che l'empatia è il migliore degli affari grazie a tutti grazie a tutti